Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ah, in mezzo. Temperature gradevole, niente nuvole. C'è una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Un clima che si riflette anche sull'atmosfera, sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che spettacolo incredibile qui all'estadio Bregão. Uno degli stati più importanti nel Portogallo. Amichevole di Brosser e altre squadre che non hanno nulla da invidarsi nell'arca. Senz'altro, da questa guerra non dipende nulla, ma potrebbe essere un stimolo per i suoi lavoratori di sperimentare i modi. Potremmo assistare un po' di giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano di cosa accorza lo spagno. Eccoci, si comincia. Hai già idea di che si metterà in luce oggi, Luca? Neymar, Fabio. Un giocatore semplicemente incredibile. Quando riceve palla nei piedi, si ha sempre la sensazione che possa succedere qualcosa di straordinario. Nel dribbling, nella conclusione rete. Nell'assist per i compagni. Veramente un giocatore dalle mille. Icardi! E colpisce il paro! Questo è un passaggio quanto meno discutibile. Nell'assist per i compagni. Nell'assist per i compagni.